si rinnova l'appuntamento con siamo europa la finestra settimanale ogni sabato in affari quotidiani che mette in dialogo la via miglia con l'unione europea tutto quel che dalla via miglia può far brillare bruxelles e quel che da bruxelles invece può arrivare lungo la via miglia partiamo così giovedì 14 novembre dalle 17 in gallerie europa piazza grande a modena in programma la presentazione del libro la difesa dell'europa chi garantisce la sicurezza del continente editore mondadori con l'anno orizzonti interviene antonio missiroli che è un docente dell'università di parigi e l'autore del libro conduce marco gestri del centro di documentazione di ricerche sull'unione europea dell'università di modena reggio emilia l'incontro è realizzato in collaborazione con la libreria ubic di modena e con il centro di documentazione di ricerche sull'unione europea dell'università di modena reggio miglia con il movimento federalista europeo di modena con acit modena e appunto con la libreria ubic per partecipare comunque necessaria la prenotazione l'iscrizione online anche dai social di europe direct modena ogni paese europeo senza specificare dove l'europa comincia dove l'europa finisce ogni paese europeo che rispetti determinati criteri in particolare in termini di legalità democrazia diritti eccetera ha il diritto di candidarsi all'adesione all'unione europea lunedì 11 novembre dalle 16 alle 18 è possibile partecipare online all'evento del progetto europeo attune activate the university for climate change cofinanziato dal programma erasmus plus scoprire come contrastare almeno come provare a contrastare il cambiamento climatico a partire dall'università attune mira coinvolgere tutta la comunità universitaria europea docenti personal amministrativo studenti per promuovere abitudini più responsabili e affrontare insieme la crisi climatica durante l'evento saranno presentati progetti risultati dei progetti e saranno condivise strategie pratiche per stimolare il cambiamento anche qui iscrizione per seguire l'evento online su zoom sempre giovedì 14 novembre ma dalle 10 alle 12 45 live a bruxelles però e online per tutti è in programma la conferenza parliamo di etica nello sport ideata per promuovere comportamenti etici e combattere la discriminazione nel mondo sportivo anche se lo sport come noto dovrebbe essere sinonimo di rispetto integrazione purtroppo è spesso teatro di episodi di violenza e discriminazione durante l'evento verranno presentate le migliori pratiche per prevenire comportamenti scorretti insieme ai risultati del progetto europeo sport board sviluppato in ambito di erasmus plus sport per partecipare necessari all'iscrizione online il centro europe direct a sede nella piazza centrale di modena piazza grande al piano terra dello storico palazzo comunale spazio ribattezzato galleria europa non a caso perché l'info point per avere le prime informazioni molte informazioni su quel che dall'unione europea arriva sulla via miglia e su quello che dalla via miglia può partire per guardare all'unione europea